Ciao ragazzi e bentornati dal vostro Leferi, continuiamo Io direi che probabilmente siamo pronti per provare a battere Gadol finalmente Perlomeno ci proviamo dai, andiamo e vediamo che succede Spererei sia la volta buona io onestamente però Statua di Mayneth era questo oppure era... no mi sa che era qua, Portella del Tempio Portella del Tempio, crociamo le dita Vediamo un po' magari se posso rifare l'equipaggiamento del gruppo O spendere qualche punto magari per migliorare le tecniche da qualche parte Grazie ai manuali puoi raggiungere il livello di tecniche più alto Ma chi mi ha dato sto manuale qua? Va bene, colpo in salto, colpo ruotato Ok Lui mi ha imparato armature, il che è una buona cosa 2070 punti con cui possiamo potenziare sta cippa No, incanto dai Ok Poi Andiamo di qua 38.000 punti con cui possiamo potenziare Niente Di quello che ha equipaggiato Bene 55.000 punti Lei addirittura Rimuovi Malus dal bersaglio Nebbia curativa Immunità temporanea Contro cura Ma Che volete che vi dica? Proviamo insomma O la va o la spacca Ecco Va bene Sarei stufo di sto bastardo eh Maledetto il famone Tutto ruotato Appuntamento Bene Sharla poverina è già morta Io non so quanta vita che abbia Ma è veramente una mezza scena Poveretta Raggio laser numero 5 Abbiamo la carica pronta No Per fare lo scudo mi pare Ah ti manca ancora Moltissimo Possete fare qualcosa per nascondermi? No eh Ecco 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 Bene Ha preso Sharla La più spiegata dal gruppo Lasciamolo per dopo questo va Niente non riesco ad abbassare purtroppo La furia su di me Colpo Taglio Giusto due colpi C'è che ha fatto E non è bene Ecco Grazie Sharla I love you Mamma Ma sbaglio Ah no Eccole da le guardie Ok Che cacchio vuoi ma il letto infamone Ok Vi fa video da bastardo Fiaccamento Puto dotato Accendo опредemente Va Ma... Se da appuntamento funzionasse un po' di più, sarebbe anche bello a farlo più spesso. Aio. Oh, cazzo. Bene, Sharla, guarda. Una conclusione, perfetto. Secondo me sei troppo positivo tenere, però cazzo dovete rilanciare meglio. Io sto tenendo appunto la mona di quella carica, mitaggio laser numero 5. Adesso qua facciamo scudo con tutto e siamo a posto, giusto? Oh, cazzo. 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 Possiamo che sia diventato così forte nel giro di poco tempo? Sì. Poco tempo, con l'exemple. Oh, cazzo. Aia, è quando non ho più lo schieno troppo, però. Come la mettiamo? Beh, ma c'è qua, non è questo fianco, ma che cazzo è? Potevo fare a Berlio. Eh, lo vede. No, poi scappiamo un attimo perché qua non mi piace mica. Ok, buon, eh. Oh, sbagliato. Ma, sbaglio, poi è diventato incredibilmente facile. Come mai? Dai, Fiora. Fagliela vedere. Oh, no, 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 no. Fiora. Fiora, tu è? Fiora, tu è? Sì, sì. Gado! S-sus... Scusi. Garena... E... ...e... 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 Y... Egu... G İ K Egu... Egu... E freddo Posso andare È lei Divino i loro Tutti i nostri Questa è stata la trascita Siamo oggi Noi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no particolare direi particolare e comunque si combatte bene livello 70 ah beh allora lasciami stare fatti attacchiare le spalle maledetto next man bene cazzo l'ho mancato grazie a Sharla ok ah va bene va bene allora come sa che andrà a finire male sacrificio ok pensavo bene guardate ti aiuto io guarda qualcuno lo agri lasciare qua ok ok niente c'è incassato di nuovo ok mega rager 1800 va alteccole tutto per accelerare un po' i denti non lasciarla non morire ok bam bam dai 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 attacco di fianco bene beh non posso più attaccarlo eh va bene mettiamo l'abbine allora non lo facciamo proprio non posso più attaccarlo non me ne era accorto cazzo maxi colpo d'etere che gli fa 4 2800 non si non si mangiare non si non si ok non si non si non si no non si Grazie a tutti. 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 Yeah. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. 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 Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Bene. Yeah.